Grazie, vedrò di essere breve e garantisco che non mi tolgo la maglietta. Ma te le servono su un piatto d'argento? Anche se fa un caldo della Madonna qua dentro. Fa caldissimo. Te le servono su un piatto d'argento oggi quella storia del presepe a Bergamo, neanche farla apposta, sembra che te le crei tu. No, non è un militante della Lega quel preside lì, anche se uno potrebbe pensarlo. Però la storia è strana perché ovviamente si parla di lavoro, di diritti, di immigrazione, di islam, però le radici vengono prima di tutto. Io mi sono riletto quattro righe che sembrano scritte ieri, ve le leggo perché me le ero conservate e poi vi dico chi le ha scritte e quando le ha scritte. Sono giusto tre righe dedicate a questo preside. Forse ci vorrà ancora poco tempo perché noi italiani diventiamo minoranza in casa nostra, ma a questa meta ci stiamo avvicinando a grandi passi, ad esempio cominciando a togliere il presepe. Questo l'ha scritto nel 2006 Monsignor Alessandro Maggiolini. Quindi otto anni fa, perché poi c'è chiesa e chiesa, perché poi c'è la chiesa che dorme, io non so, magari mi sono distratto, si è elevato un grido di dolore da parte della chiesa di Bergamo e dintorni per difendere il presepe, magari arriverà, però c'è chiesa e chiesa. E io mi ricordo che l'insegnamento di qualche uomo, io sono l'ultimo dei buoni cattolici, vado a messa due volte all'anno quindi non faccio battaglie religiose, però faccio battaglie identitarie per difendere il presepe, è il segno del bello, della gioia, della vita, della pace, dell'accoglienza, dell'integrazione. Quindi secondo me il primo razzista è quello che vieta il presepe, al di là di tutto e di tutti. Perché però, e lo dico a Chauky, io sogno un mondo, no, sono d'accordo ma essendo tu persona sensata ne sono straconvinto perché non penso che ci sia neanche un bambino di religione islamica, un buddista, un ebreo, un protestante, un valdese che avrebbe mai l'idea di dire togli il presepe, perché in Italia, ce lo diciamo sotto voce, spesso il problema non è l'immigrato o l'islamico, ma sono degli italiani coglioni il vero problema, che sono dei masochisti, che sono dei masochisti, che odiano le nostre radici prima ancora che qualcun altro dica qualcosa, senza nessun riferimento a questo preside, al signor Mastro Rocco, lunga vita e lunga presidenza, ovviamente. Però proviamo a ragionare come se fra sei mesi andassimo al governo, perché un conto è esaminare i problemi, un conto è dare delle soluzioni e delle risposte, perché oggi noi siamo all'opposizione e il nostro dovere è dire quello non va bene, quello non va bene, quello non va bene, però se siamo persone serie dobbiamo dire e io farei così, 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 perché altrimenti ti fermi ai 5 stelle che dicono quello non va bene e poi cosa fai? Salgo sul tetto e non è che salendo sul tetto risolvi i problemi. Quindi là ad esempio c'è una bellissima mostra fotografica dell'umanitaria Padana Onlus, aiutarli a casa loro. Io dico che se fossi al posto di Renzi in questo momento, non risolverei il problema gratis, ma semplicemente userei gli stessi soldi che stiamo sbattendo via per Mare Nostrum, per mantenere in albergo queste persone, li spenderei fino all'ultimo centesimo in Africa per costruirci strade, scuole, ospedali e permettere a quella gente di stare bene a casa sua e di non arrivare al gleno. Perché poi è chiaro che se la casa di riposo di Bergamo, costruita con i soldi e con i sacrifici di generazioni a Bergamo, adesso diventa un ostello per gente che non fa una mazza dalla mattina alla sera, a cui offri colazione, pranzo e cena, poi tu hai un bel da ragionare di diritti, di eguaglianza. Io sogno un mondo di parità di diritti e di doveri, perché soprattutto per qualcuno la parola dovere è da studiare. Quindi spendere là i soldi che stiamo sbattendo via qua, mettere delle regole e delle leggi semplici ma applicate e applicabili, ad esempio non depenalizzare i reati cosiddetti lievi come il furto negli appartamenti, lo scippo, la truffa, lo stalking, quello non aiuta l'integrazione. E' chiaro che non aiuta l'integrazione. Prendere atto di alcuni fenomeni che esistono, in questo caso da duemila anni, e risolverli. Togliere dalla strada, dal controllo della mafia, regolamentare e tassare la prostituzione per togliere i quattrini alle mafie e risolvere in maniera civile quello che c'è. Quindi il ragionamento di chi punta a arrivare al governo è questo. Sull'Islam c'è un'ulteriore complicazione, perché per molti, non so se per tanti o per pochi, per parecchi islamici la religione è legge di Stato. Viene prima il dettame di Dio del dettame dello Stato. Ora, qua ci sono tanti cattolici ma ci saranno anche degli atei, dei buddisti, degli ebrei, dei valdesi, dei protestanti, però la legge è legge. E quindi se la legge mi dice che la donna ha gli stessi diritti e gli stessi doveri dell'uomo, per me la donna è uguale all'uomo. Sicuramente non su questo palco. Però a Milano ci sono tante testimonianze di qualcuno che, fraintendendo i dettami probabilmente del suo Dio, ritiene che la donna debba sempre stare un passo indietro, che non debba imparare l'italiano, che non debba frequentare le amiche, che non debba andare a teatro, che non debba andare a prendere figli a scuola. Quindi io non vorrei che nel nome dell'integrazione mi porto la serpa in seno e poi quella che oggi è un'aberrazione domani diventa un uso comune. Perché la donna ha gli stessi identici diritti e doveri rispetto all'uomo. Se c'è una religione che dice il contrario, io la combatto, ma non in quanto cattolico, in quanto essere pensante. Poi sarà una minoranza, sarà una maggioranza, non lo so. E quindi sono queste, Roberto, le sfide. E avere una convivenza. Oggi ero davanti alla scuola e c'era una bambina di colore che mi fa, io non sono cattolica, però non capisco chi arriva in un paese e pretende di cambiare quello che in questo paese si fa da duemila anni. Se l'ha capito sta bimba di otto anni, perché non lo devono capire degli adulti di cinquant'anni? Che l'integrazione, e chiudo, lo spiegava molto bene Oriana Fallaci che io renderei obbligatoria come studio di testo scolastico a scuola? L'integrazione, o meglio ancora l'inclusione, è possibile da parte di una società che ha ben saldi i suoi principi ed è orgogliosa e ferma nei suoi diritti e nelle sue tradizioni. Se una società è molle, è svaccata, è svogliata, è depressa, è sfiduciata, non c'è integrazione possibile. Il primo che arriva e alza la voce ha ragione. E quindi a me piacerebbe una società di pari e chiudo, ma non come quella dell'Europa, perché secondo me il nemico pubblico numero uno adesso, ho visto le schifezze di Roma, ma il nemico pubblico numero uno dei popoli tutti sta a Bruxelles, perché lì ci sono veramente dei delinquenti che vogliono, che stanno lavorando per una grande marmellata, per un popolo di consumatori senza lavoro, senza diritti, senza coscienza, senza religione, senza passato e se uno perde il suo passato perde il suo futuro, come quei cretini di sindaci che quando per caso vincono in un comune dove amministrava la Lega la prima cosa che fanno è togliere il cartello in belgamasco, questi sono dei tarati, perché se uno si vergogna della sua lingua ha dei problemi. Però vi assicuro che l'Europa, l'Europa da questo punto di vista ha un progetto veramente devastante e io spero di combatterla con altri questa battaglia, perché vogliono l'uomo unico, il pensiero unico, la moneta unica, il Dio unico, tutto appiattito, tutto uguale, tutto noioso, perché stanno massacrando scientificamente l'agricoltura, la pesca, l'artigianato, il commercio, il turismo, perché vogliono che noi siamo consumatori di robe che vengono prodotte, come diceva Rota, dall'altra parte del mondo, che vengono prodotte in Cina, in India, in Brasile, in Bangladesh, oggi mi hanno scritto i pescatori di vongole e uno dice, magari uno ride, ci sono anche politici che quando parlo di queste cose qua ridono, ah cazzo questo della Lega c'è il problema delle vongole, ma il mio problema non sono gli spaghetti alle vongole che mangia Salvini, il problema è che se a Bruxelles qualche genio ha deciso che la vongola è ritenuta adulta in Europa se è di due centimetri e mezzo, non so bene in base a quale criterio scientifico, numero uno ci sono i pescatori che devono andare a fare il loro lavoro con la squadra, con il righello, col compasso, a valutare, a vedere questa è la vongola, è adolescente, è in pubertà, ha appena superato, noi ridiamo, ma ci sono in ballo, solo in questo comparto, in Italia, 20.000 posti di lavoro, perché quando a Bruxelles c'è lo scemo che ti dice non puoi prendere la vongola che è sotto i due centimetri e mezzo, ma il problema della vongola è che non sa se è in Europa, perché la vongola che è in Croazia, in Albania, in Tunisia, in Marocco, dall'altra parte del mondo, non ha coscienza di essere una vongola extra comunitaria e quindi Bruxelles sta danneggiando, ma quando parli di questo parli del formaggio di Malga, parli delle arance, parli dei pomodori, parli di tutto quello che è la nostra cultura, il cibo, il vino e quello che è il nostro cuore, dal parmigiano reggiano e tutto il resto, lo fanno per fotterci, perché noi dobbiamo mangiare cose che vengono dall'altra parte del mondo, perché anche quello che mangiamo fa parte della nostra identità e quindi togli il presepe, togli gli agrumi, togli il vino, togli la vongola, imponi una moneta senza senso che non ha nessun tipo di passato, di presente di futuro e c'è l'uomo nuovo, c'è l'uomo nuovo, quello che non ha coscienza, che non ha lavoro, come diceva Mirko, e se uno non ha lavoro non è che arriva a casa la sera e pensa alla politica e pensa di iscriversi, pensa a un futuro, pensa a fare delle battaglie, pensa a come sopravvivere il giorno dopo e quindi il nostro impegno è a mantenere tutte le diversità, perché io adoro le diversità e le diversità anche di chi viene dall'altra parte del mondo, è una questione di numeri, la diversità che è un 10% che arriva in casa mia è una diversità bella con cui mi confronto, quando la diversità inizia a essere il 40, il 50, il 60% poi inizio a essere io il diverso in casa mia e mi girano le balle. Allora posso chiederti una cosa che non c'entra niente, ma è questa, tu vai raccontando un programma che è anche un programma di governo, non è un mistero che i sondaggi sono sempre più in salita perché ogni giorno la Lega sale, una volta non ti si poteva vedere in una certa parte d'Italia, adesso quando ci sei tu, io lo vedo dalle piazze, si fermano e ascoltano e gran parte delle volte applaudono, due domande, a come ce la porti la Lega al governo e con chi? B? Con ciò uccido! che poi sono anche stato molto carino e moderatore e non ho detto che mi avevate detto cosa significa in bergamasco il suo cognome, me l'ha spiegato, dopo te lo spiego, significa asinello, no però pronunciato un po' diverso, no, si me l'ha detto, alzi la mano che non, come si dice, vieni qua, come si, al limite l'el CUC, l'oselio, ecco, è un uccello, non è un, ah sono gli uccellini, allora, dopo becco quello che me l'ha detto, ma gli uccellini sono belli, allora uccello significa, va bene, allora, dopo becco quello che, sei stato tu a dirmi? No, scusa, se no dopo passo per un, non un bergamasco, o il ciuchì intendevano, ah il ciuchì, eh, vabbè sì, ciuchì cosa significa? però, però le mei asens, eh, allora è vero che l'avevi ragione, ok, ho sbagliato, vabbè, come ce la porti la Lega al governo, con che compagni d'avventura, come l'allarghi la Lega, sapendo che ha le radici qua, è una certa testa che abbiamo capito qua, e poi voglio sapere, tu ieri non hai visto il Tg5, io sì, ho visto una lunga intervista a Berlusconi che se non fosse stata per la voce, sembrava Salvini, perché parlava della tassazione, l'avete visto? Allora, ieri ho detto che faccia a Salvini, no, praticamente le robe che dice lui da un paio d'anni la tassazione, eh, gli ha messo su altre due, tre fiorettini, ma era quella roba là, e ho detto, non è che spaventati ti stanno clonando? Due risposte non impolitichese e secche, anche perché sono militante fra i militanti, uno, se la gente decidesse che la Lega dovesse tornare al governo, lo faremmo ovviamente con una formula diversa, no, la barba me la tengo e lo rocchino anche, lo faremmo con una formula diversa rispetto al passato, io rivendico tutto quello che abbiamo fatto in passato, tutti gli accordi che abbiamo fatto, perché era giusto provarci fino all'ultimo, poi in politica, come nella vita, arrivi alla fine del percorso e vedi se hai portato a casa tutto quello che volevi e potevi o no, e quindi tu mi dici con chi, sicuramente non sono disposto, come dice Berlusconi, a fare accordi con tutti pur di vincere, perché l'abbia visto in passato con fini e casini, le frittate del tutti insieme contro i comunisti, non ci, non me ne frega niente, quindi posso dire chiaramente che a livello politico nazionale con Alfano non è possibile nessun tipo di accordo da nessun punto di vista e con Berlusconi dipende da quale Berlusconi è, dipende da se è il giorno pari o il giorno dispari, qua mi sembra che il sondaggio sia chiaro, alzino la mano gli eventuali contrari a un eventuale accordo, non so, è pari pari, è 50 e 50, la Le Pen sta dall'altra parte però non posso allearmi, detto questo, non penso ad oggi, se si votasse domani mattina la Lega correrebbe da sola, a prescindere dalla legge elettorale, se si votasse domani mattina, se nell'arco dei prossimi, non so quando Renzi deciderà di andare a votare, lo sa Ciauchi meglio di me, se sono sei mesi, un anno, un anno e mezzo, non lo so, prima o poi ci farà votare comunque, bene o male, gli toccherà. Non penso a riproposizioni di vecchie alleanze ma penso al futuro e quindi se Forza Italia cambierà, chi vivrà vedrà. Per il momento io mi impegno e vi impegno a mettere ben salde le radici della Lega perché non mi bastano i sondaggi ma dobbiamo lavorare, faticare giorno per giorno a Bergamo, in Lombardia, in Padania ma non solo, perché vi posso dire, me ne sono reso conto di persona, da segretario della Lega Nord, ogni volta che vado in televisione mi rinfacciano i cori contro i napoletani e Pimpo e Pallo e domenica prossima è una giornata molto difficile perché a San Siro c'è Milan-Napoli e quindi non voglio vicino a me neanche un giornalista evidentemente, però rispetto a 15 anni fa, rispetto a quando andammo sul Po, al Sud devo dire che sto vedendo che c'è voglia da parte di un po' di gente di liberarsi dalle mafie, dalle camorre, dai falsi invalidi, dai falsi forestali, dai falsi cechi, dai falsi braccianti agricoli e io ho due scelte, quando ci sono 50.000 persone che mi iscrivono dal Salento, dalla Calabria, dalla Sardegna, dalla Sicilia, li abbiamo provati tutti, ci hanno fregato tutti, venite voi, io posso dire due cose, uno no chi se ne frega, due sì ci provo, io sono e quindi io ci provo con un rischio, con un rischio perché ormai a Bergamo ci conosciamo, a Brescia ci conosciamo, a Treviso ci conosciamo, a Reggio Emilia ci conosciamo, in alcune zone vado lì e mi faccio il segno della croce evidentemente perché a Roma abbiamo visto che ne hanno portati via una badilata e quindi io faccio per dirvi, ma questo può capitare anche a Bergamo, a Bergamo o a Roma, io quando passeggio per Roma faccio per strada cento foto, però quelli con cui faccio le foto non è che ci hanno scritto sulla fronte brava persona o malavitoso, io non rinuncerò mai nella vita il contatto diretto con la gente, so che però più la Lega cresce più cercheranno di farci dei tranelli e aspetto contro le ore a che la magistratura comincia a fare il suo sporco lavoro, se siamo compatti non ci ferma nessuno, ve lo posso assicurare, ve lo posso garantire.